Prima di iniziare il nostro video, vorrei gentilmente ricordarvi di premere il pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace grazie mille pochi momenti fa Gianni Morandi ha fatto un annuncio che ha toccato il cuore di tutti i suoi fan portando persino alcune lacrime agli occhi quest'uomo che qualcuno chiama L Eterno Ragazzo, un vero e proprio esempio di gioventù eterna nonostante i suoi 77 anni, la sua vitalità, allegria e modestia sono le qualità che lo hanno reso uno dei cantanti italiani più amati di tutti i tempi una vera icona della musica capace di coinvolgere sia i giovani che i più anziani Gianni Morandi sempre stato in grado di rimanere al passo con le nuove tendenze il che lo rende sempre attuale e ancor più amato da milioni di fan che lo seguono con entusiasmo ovunque vada tuttavia nel bel mezzo di tutto questo successo ha rivelato di avere un pilastro importante nella sua vita una grande donna che gli rimasta accanto nel corso degli anni stiamo parlando di Anna Dean una donna straordinaria che dirige una società informatica questa affascinante coppia convolata a nozze nel lontano 2004 e quando Gianni parla di lei le sue emozioni sono palpabili considera se stesso fortunatissimo ad averla incontrata nel corso del suo percorso di vita in un'intervista di qualche tempo fa Gianni Morandi ha condiviso con il pubblico il momento in cui ha incontrato Anna per lui è stato un colpo di fulmine quando l'ha vista per la prima volta a bordo campo durante una partita di calcio le sue parole sono state toccanti sono passati 25 anni da quando ti ho conosciuta ed è iniziata la nostra straordinaria storia d'amore quel giorno mi sono innamorato follemente attratto dai tuoi meravigliosi occhi ma in quel momento non avrei mai potuto immaginare che dopo 25 anni ti avrei amato con la stessa intensità quale donna non si scioglierebbe di fronte a parole così straordinarie la storia di Gianni Morandi e Anna Dean è davvero un esempio di amore eterno che ha resistito alla prova del tempo e delle sfide la loro storia d'amore è davvero un racconto romantico che continua a ispirare e commuovere tutti noi